Operava nello studio di via Pusterla da oltre dieci anni, si spacciava per dentista ma non lo è mai stato. Nessun titolo di studio conseguito, nessuna iscrizione all'albo professionale, nessuna certificazione che quella professione la conoscesse. Eppure i carabinieri del nucleo antisofisticazione e salute di Brescia, che lo hanno sorpreso in flagranza di reato con una paziente sulla poltrona operatoria, ha risposto di essere una persona competente e molto brava nel suo lavoro. È un bresciano di circa 60 anni, l'uomo scoperto dai militari, coordinati dal luogotenente Giuseppe Scaletta, ad esercitare abusivamente la professione dentistica. In via Pusterla aveva attrezzato uno studio con tutti gli strumenti della professione e senza averne titoli visitava, operava, distribuiva farmaci ed eseguiva test radiografici. Ora l'appartamento è sotto sequestro. Secondo i carabinieri sono stati centinaia i pazienti passati su quella poltrona, probabilmente attirati dei prezzi estremamente, troppo convenienti e portati lì dalla passaparola, dato che il sedicente dentista non aveva appeso targhe e non si faceva pubblicità. In queste ore, nell'ambito di una vasta operazione di controllo degli studi dentistici della provincia, i NAS hanno posto sotto sequestro uno studio a gottolengo ed uno a paratico, dove operavano degli abusivi. Si tratta di strutture autorizzate ma intestate a medici poi denunciati che fungevano da prestanome. Dall'inizio dell'anno sono state centinaia le ispezioni dei NAS, gli ambulatori abusivi sono fuori controllo e non offrono garanzie e dunque sono pericolosi per la salute.